Mid Media Guru, un'iniziativa giunta ormai alla sua quinta edizione, nata per conoscere i profondi cambiamenti che stanno producendo sui giovani nuovi mezzi di comunicazione e apprendimento e per incontrare i massimi esperti in materia, in un epoco in cui tutto corre sul filo del web. Questa iniziativa si inserisce all'interno del supporto che la Camera di Commercio di Milano dà a questo mondo, che per quanto ci riguarda crediamo davvero possa essere il futuro di Milano. Sono circa 16.000 le imprese del settore ICT che oggi svolgono attività sul territorio della Camera di Commercio di Milano e sono più della metà di quelle residenti nell'area lombarda. Basti considerare che un'impresa su otto a livello nazionale di questo settore è milanese. E' per questo che peraltro proprio quest'anno abbiamo deciso di investire 2 milioni e mezzo di euro in un bando dedicato a questo settore, all'adezione di tecnologia ICT in tutti i settori produttivi, che ha prodotto, è proprio un dato di qualche giorno fa, oltre 685 progetti proposti da imprese milanesi. Lo slogan di quest'anno, corsi intensivi di aggiornamento sul digitale, per capire come le tecnologie e i social network stanno dando vita a una nuova società. Lo scopo di questo incontro è dare elementi di comprensione di una trasformazione sociale in atto. Mimito è un'antropologa, dare degli elementi che nascono da ricerche approfondite perché il mondo dei professionisti, ma anche noi semplicemente come persone, ma il mondo delle imprese si rendono conto di una mutazione, di che livello, di che portata è questa mutazione sociale e come quindi relazionarsi pensando oggi a questo nuovo mondo di consumatori che si sta delineando e definendo. Per approfondire questi importanti temi, la testimonianza di una vera guru di nuovi media. Laureata ad Harvard, specializzata a Stanford, oggi docente in California e in Giappone, ma soprattutto autrice di un importantissimo studio sull'apprendimento nell'era digitale. È proprio vero che internet sta impoverendo le nostre facoltà mentali? Una delle principali conclusioni della mia ricerca è che c'è una grande diversità su come i giovani sviluppano le capacità di apprendimento con le tecnologie media, internet, giochi, supporti digitali. Tutte le cose nuove sono una grande opportunità per tutti i giovani per apprendere nuove cose, alfabetizzarsi e produrre contenuti digitali. Ma c'è solo una piccola parte di bambini e di giovani che può godere di questa opportunità e come adulti, educatori e genitori dobbiamo fare molto di più per far sì che il potenziale dei nuovi media nell'apprendimento dei ragazzi si realizzi. Nei prossimi incontri si parlerà di giochi online, offline, città digitali, arte, scienza e visualizzazione della complessità, sempre con il contributo dei guru del settore.